Saranno oltre 20.000 i pellegrini che attenderanno domani mattina Papa Francesco a Pietrelcina, il paese natale di Padre Pio, prima tappa della visita sulle Orme del Santo, che poi condurrà il Pontefice anche a San Giovanni Rotondo. L'Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe, ieri ha scritto un telegramma indirizzato al Papa per l'anniversario del suo pontificato. Il Signore vi doni pace e salute per continuare a pascere il grege di Dio, ha detto il Cardinale, e oggi, in occasione del convegno che si è tenuto nell'auditorum salvo d'acquisto di Napoli, dedicato all'accoglienza dei migranti e al dialogo, ha precisato. Domani il Papa viene per un gesto di omaggio, di devozione, di fede. Questo nostro santo, da tempo che lui pensava parlava di questo, per cui sarà un momento anche di risveglio della spiritualità, non solo di Padre Pio, ma anche di rivalutazione della spiritualità della nostra regione ecclesiastica. Al convegno intitolato Noi e i migranti, accogliere, dialogare e condividere, realizzato con l'intento di offrire agli studenti degli istituti campani un'occasione di confronto su un tema di grande attualità, ha partecipato anche il vice direttore della Caritas di Napoli, Gian Camillo Trani. Io credo che non si debba in nessun modo alimentare guerra tra poveri, bensì si debbano promuovere le precondizioni per una pacifica convivenza possibile tra autoctoni e stranieri e credo che giornate di questo tipo servano proprio a questo.